Il Codice Rosso è una legge che tutela le donne e i soggetti deboli che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare e affettivo. La violenza contro le donne si manifesta attraverso varie forme di abuso, come la violenza fisica, la violenza verbale, la violenza sessuale, ma soprattutto la violenza psicologica. Questo fenomeno purtroppo è una realtà che viene affrontata ogni giorno e sono numerosissimi gli interventi dei carabinieri. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, infatti, solo nel 2022 ha operato 88 arresti in flagranza di reato e quasi 500 denunce in stato di libertà. Per questo motivo, in collaborazione con Soroptimist International Italia, nelle stazioni carabinieri è presente una stanza tutta per sé, un luogo in cui le vittime di violenza vengono ascoltate in un ambiente protetto e rassicurante e ricevono tutta l'assistenza necessaria. La strada verso la liberazione dalla violenza è lunga e dolorosa, ma è importante rompere il silenzio. Denunciare è il primo passo per uscire dal tunnel. Grazie ad un'ullenseat all'esterno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.